E bella ragazzoli e benvenuti su questo nuovissimo video. Che per caso ragazzi avete intenzione di comprare una nuova skin o una nuova emote nello shop e anche supportarmi allo stesso momento? Bene ragazzi, da oggi è possibile farlo e per fare questa procedura basta semplicemente andare su negozi oggetti, cliccare su questo pulsante in basso a destra, supporto a un creatore, e semplicemente andare a scrivere la parola Croatomist. Facendo così ragazzi ogni volta che voi shopperete qualsiasi skin o comunque i v-back nel gioco, supporterete anche me indirettamente. Ovviamente ringrazio tutti coloro che decideranno di supportarmi all'interno del gioco e ovviamente ragazzi mi invito anche a lasciare un bel mi piace a questo video. Detto questo, buona visione! Tu come stai al posto? Ho solo un aereo quindi non lo so. Ok, un attimo escemo. curriculumее minori e assistere un attimo, un attimo altissimo, un attimo es note, magari all'interno di spinta qui c'è qualcuno te lo scelgo ne può fare ecco il pd cecco fino a 1 ok vuoi il pd il pd il pd 1 hai il vasuga, attento non ce l'ha più questo capo ho double tappato così male coraccio sta piani mi ha lasillato qualcuno ah si ne avevi 3 ho fatto male ho fatto quella con la minigun hs 65 doppio e blu, blu di nuovo, doppio e bianco mi ha fatto male è buonissima ma davvero male si sto arrivando occhio ora quello la so mi sto curando io con calma si si vai curati io ho l'eye ground 120 a quello è proprio la stit un altro poi arrivo mi sto seguendo uno ok ok non ci sono una devo fare una hs provo no non era hs però è morto va bene io vado dietro vai l'hanno lasciato morire quello sono paddati via ok usciamoli che è pieno di team qua io i burdele va bene prendo questo qua che spamba le ne- sulla montagna va bene ho fatto questo ho fatto questo sono morti due sono morti due quanta gente? ho morto un altro dai seru i ultimi due vediamo dove stanno gli ultimi due buona fortuna se le fai tutti e due tu fai 17 tu e 17 è quello che ti volevo dire infatti infatti mi sa che te l'hai lasciato fammi fare uno v2 se li becchiamo aspetta un attimo dici che sono lì pure io stavo guardando è insolita è insolita quella scala no? what? a cosa è connetta? si 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 vieni verso di qua io non li tocco ah allora me li vado a fare cioè uno è andato qua sulla montagna l'altro ok tutti e due lì sono mi rispacco la scaletta ok 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 nice eh no nemmeno gli sparo mi spavento di finiscerlo easy vieni qua brother no vieni no moltissimo vieni qua